Salve a tutte e a tutti, grazie della linea. Oggi siamo qui nuovamente con Dalila per affrontare una seconda parte dell'argomento che ci sta molto a cuore in questo periodo, che è il cyberbullismo. Come abbiamo già avuto occasione di dire, questa scuola si è dotata di un documento di policy per evidenziare ai ragazzi e ai genitori tutti gli interventi e tutte le attività che la scuola intende mettere in campo per combattere il fenomeno del cyberbullismo. Oggi in particolare con Dalila vogliamo approfondire l'aspetto legato alle caratteristiche del bullo. Proviamo ad entrare un po' di più dentro la psicologia del bullo. Dalila, secondo te quali sono le caratteristiche tipiche del bullo? Il bullo intanto è alimentato da odio per comunque offendere la vittima. Poi, ad esempio, quando si tratta del cyberbullismo, essendo che tramite la tecnologia si offende la vittima, il bullo poi non vede la reazione agli insulti che ha la vittima. E quindi da questo l'odio è ancora più fomentato perché appunto non vedendo la reazione non può vedere se magari ci sta male, se magari non gli interessa niente. Oppure un'altra cosa è che non vediamo mai il bullo da solo, ma lo vediamo comunque seguito da un gruppo di amici o comunque da persone che lo aiutano a fare gli atti di odio verso la vittima. Hai detto due cose molto molto importanti. Una che appunto è il sentimento che muove il bullo e l'odio e il disprezzo nei confronti della vittima perché la considera debole. Il bullo infatti tende a non riconoscere le proprie debolezze, ma le attribuisce, uso un termine tecnico, le proietta sull'altro che vede debole, che vede fragile e quindi tutta la sua fragilità, tutta la sua vulnerabilità la proietta sulla vittima e odia questi aspetti perché non li vuole riconoscere in sé stesso. Un'altra cosa molto importante che hai detto è che il bullo effettivamente è incapace di mettersi dalla parte della vittima. Il fenomeno del cyberbullismo, proprio perché avviene sui social, evita il contatto fisico anche tra il bullo e la vittima. Quindi, a maggior ragione, il bullo, non vedendo fisicamente la vittima, non sa qual è la reazione della vittima e questo gli permette di essere ancora più duro nelle sue reazioni. Sì. Secondo te, quali potrebbero essere i modi per neutralizzare un po' il bullo? Allora, dalla parte della vittima, quello che si sente molto spesso è che rimane chiuso in sé stesso. Infatti, appunto, la vittima è sempre una persona un po' insicura, un po' che viene esclusa, chiusa in sé stessa, che appunto non riesce a chiedere esplicitamente aiuto. E la cosa che invece deve fare, perché in questo modo il bullo magari si ferma un po', è quello di chiedere appunto esplicitamente aiuto ai genitori, agli amici, agli insegnanti, e comunque far capire la situazione e non dirle anche in maniera abbastanza leggera, perché molto spesso la vittima, magari i genitori si accorgono che la vittima è soggetta al bullismo, però fa finta di niente, dice che magari è un'accusa abbastanza leggera e che non gli dà fastidio, quando invece magari è anche un'accusa pesante. Questo è un aspetto molto importante, perché spesso le vittime tendono a minimizzare il dolore, la tristezza che provano nell'essere vittime di un bullo o di un cyberbullo. Quindi è importante che ciascuno dia un valore e lo faccia capire all'altra persona, soprattutto agli adulti, che quello che sta succedendo è qualcosa che sta nuocendo, che sta facendo del male alla vittima. Quindi questo è un messaggio fondamentale per chi è vittima di bullismo e cyberbullismo, di chiedere aiuto, di chiedere aiuto agli adulti in particolare, agli insegnanti, ai genitori, e chiedere aiuto anche agli amici, perché il gruppo degli amici è fondamentale per disincentivare il bullo dal compiere le sue azioni negative, per farlo essere meno forte, meno potente. Quindi anche al gruppo di amici, a quelli che chiamiamo i gregari, il messaggio è di disincentivare le azioni del bullo. E ovviamente trovare amici veri. Assolutamente sì, perché gli amici veri ci sono e noi dobbiamo coltivare soprattutto amicizie vere e in presenza, perché quelle sui social, solo sui social, spesso non sono amicizie vere. Sono vere all'apparenza. Bene Dalila, io ti ringrazio e restituiamo la linea. Grazie. 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 Grazie.